Buonasera a tutti e benvenuti ad un rapido aggiornamento serale su Bitcoin. Che cosa hanno voluto fare di bello che non succede fortunatamente sugli indici, mentre invece sulle cripto vediamo di più. Hanno fatto prima di tutto una bella discesa, una bella finta di discesa, solo che poi la candela è diventata verde, c'è stata un'esplosione verso l'alto, una salita dirompente da HFT, che ha permesso la chiusura, l'ha permessa la chiusura su TimeFrame Daily del secondo T inverso e anche del T più 1 inverso. Prima domanda a cui risponde. Seconda cosa, poi si è di nuovo inavissato, scendendo sotto il minimo da cui era riemerso, con questa candela verde, e ci ha lasciato con 17 candele. Sì, qui siamo a 21, d'accordo, abbiamo tutto il tempo entro le 44, quindi entro le 16 e 15 di domani, di provare a vedere se questo, cos'è questo. Anche perché soprattutto le cripto fanno questo genere di discorso. Prima si vincono noi basso, poi però superano il massimo della precedente struttura ciclica, che un tempo non succedeva, e poi ritornano a scendere e poi vanno in laterale, perché queste sono tutte candele inside, sono 45, un'ora e mezza, sono 3 ore di inside dentro questa candela rossa, che significa, di nuovo, quando le candele sono inside, significa che non si sa bene dove andare. C'è stato appunto uno shock, dovuto, non lo so, chiedetelo a chi volete, a noi interessa abbastanza poco, anche perché, non essendo particolarmente prevedibile, è un movimento così. Questo, come vi dicevo, però, ha permesso di andare a chiudere il sesto t-3 inverso a 38 bar, anche se c'è ancora possibilità, con la prossima barra, di provare a cercare un massimo assoluto fino a qui. Teoricamente qui, però, abbiamo un nono t-3 vincolato ribasso, e quindi a tornare sotto questo minimo. Oppure non ce l'abbiamo, effettivamente. Ragioniamo. Da questo minimo, a questa candela, abbiamo fatto 17 barre. E quindi, Jacopo, vi starete dicendo. E quindi a me viene in mente sempre la solita cosa, sempre la solita cosa, ok? Ovvero che ci può sempre essere un raccordo di grado t-4, è uguale a caso 17 barre, sono un t-4. Tra che cosa? Tra un t-1, in questo caso a tre tempi, uno, due, tre, t-3, ed il prossimo. Ci sta in questo t settimanale ancora un altro t-1, anche solo a tre giorni, per fare 9, 10, 11. Perché? Qui ci sta, sul 45 minuti. Sul grafico un giorno, lo abbiamo? Riflettete sempre su questi due grafici. Time frame un giorno e 45 minuti. Per il resto, siate estremamente prudenti, perché se questo fosse un raccordo, partirebbe comunque il nono t-3 da qui, e poi bisognerebbe vedere la condizione che vi dicevo prima del t più 1 inverso. Di anche tutto per le riflessioni, vi ringrazio per il vostro tempo e vi auguro una splendida serata. La mia, lo è già. Arrivederci! Grazie. Grazie.